Ha aperto le sue porte il dormitorio in piazza San Domenico, pronto così ad accogliere i senza tetto e i clochard presenti nel territorio aretino. Il nuovo punto di accoglienza ha trovato spazio all'interno dei locali dell'ex asilo comunale a Palazzo Fossombroni, ristrutturati e resi funzionali alla nuova destinazione. La struttura di proprietà pubblica è stata data in affidamento alla Caritas Diocesana. Fino al 30 di aprile apriamo questa accoglienza invernale per senza dimora, in continuità con i precedenti anni, gli ultimi tre anni, quindi Caritas si impegnerà con i volontari e gli operatori a gestire questo luogo, questo servizio per tutti coloro senza dimora che ne faranno richiesta tramite appunto il nostro centro di ascolto diocesano che rilascerà i pass per entrare nella struttura. Lo spazio è per 20 posti letto, per arrivare anche a 24 massimo come ospitalità, sia per uomini che per donne. Quest'anno c'è una novità sul discorso che i proprietari anche di animali, soprattutto i cani, possono poter accedere alla struttura però con uno spazio dedicato all'esterno per il cane o per l'animale. Questo appunto per il rispetto anche di quelle che sono le normative o comunque la dignità anche delle persone all'interno della struttura. Cioè bisogna di volontari un appello a tutte le associazioni di volontariato? Indubbiamente sì, ci piacerebbe molto. Abbiamo gestito i primi tre anni del dormitorio invernale praticamente solo con il contributo del volontariato cristiano. Ci piacerebbe diventasse un progetto della città di Arezza aperto a tutti e tramite i colleghi responsabili di organizzare i turni del volontariato si può tranquillamente dare il nominativo presso la Carità Sdiocesana. Grazie. 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 Grazie.